E' il mio primo video di Call of Duty Ghost Vi volevo dire che non so se in questo video avrò la facecam o meno Perché io col cellulare sto registrando Ma innanzitutto è scarico Secondamente è in una posizione abbastanza rischiosa Infatti ho messo sotto un cuscino così neanche cato che adesso Non si... niente Come il verbo non ho voluto dirvelo Perché lo so che voi lo sapete E poi ho scritto sulla pagina di Facebook Appunto come potete ben vedere Che appunto avevo voglia di fare un video Che tipo di video avreste voluto Sto filando la grande O dato che oggi avevo voglia di fare un video Ho chiesto sulla pagina Facebook che video di Call of Duty Che tipo, che modalità di video di Call of Duty avreste voluto vedere Perché di Call of Duty perché io oggi ho voglia di giocare Call of Duty E in un macello mi avete chiesto di fare la fe... sì Di fare un bel live Quindi eccoci qua a fare il mio primo live di Call of Duty in generale Con la facecam o meno si vedrà Comunque oggi ho deciso di fare... faremo una partita di frenesia Che tanto dureranno poco appunto per illustrarvi meglio la... 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 la nuova modalità E poi se ci avanzerà ancora del tempo cosa faremo? Faremo un bel tutti con tutti con lo sniper Per provare di vedere le mie doti da cerchino Quindi ragazzi allora ora stiamo cercando la partita Ci sentiamo appena l'abbiamo trovata Bolla Oh... eccoci... Ehi... eccoci qua ragazzi allora Frenesia su una mappa Sai che non c'ho neanche mai giocato su sta mappa Freight si chiama Non credo di averci mai giocato Comunque in cosa questo è Frenesia E' un tutti contro tutti Una specie... no Una specie di ternezza squadre In cui dopo aver fatto un'uccisione Avete altri 30 secondi per fare un'altra Se non uccidete in quell'altra di 30 secondi Morirete Quindi è una cosa abbastanza tattica Una cosa abbastanza frenetica Ecco da... ecco da... perché il nome è Frenesia Quindi oggi utilizzeremo l'armante Nominatasi Money Grabber No però se parte perché se non parte la prima ma... ok no Dovrebbe partire E parte ragazzi Allora eccoci qua Una cosa che mi fa stare a scrivere in questo gioco Che non fa vedere la connessione Mannaggia Sta mappa... Ah si l'ho già fatta Fortunatamente lo credo di averla già fatta Quindi è abbastanza tattica come roba Via Lui li aspetta ma non li trova Madonna quanti non ho visti Ovviamente faccio hit marker La Assist Uuuu è rimanuta qua Dio santissimo Frenesia dopo un minuto Non ho ancora fatto una china Questa è abbastanza ambigua Una cosa abbastanza ambigua Ancora la lo vedo ma non... Uuuu Dio santissimo Ve lo fai di scherzetto? Siamo partiti alla grande ragazzi Dopo Uuuu Ma dai E' la doppia Non mi dà le doppie Ragazzi quando... Perché? Aha Basta si è ripreso Fate 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 Ma spostati Mamma mia 3 3 Che gran partista Sinceramente spero che inizia la molto meglio Ma molto 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 Alla grande Erima Però Dai E me ne fregano ancora Ma muoio E invece no E assist Mi ammazzano Ma dai No ragazzi Vi giuro che questa qua è una delle mie... Non vabbè Addirittura Però sono partito veramente male rispetto al solito E' l'emozione 1 Dai 2 Bella E si va Si è partiti Basta E va 3 Mamma mia Minchia da dietro Mettiamo un bel Wav Che è stranissimo Sto gioco Mamma mia Va bene Va bene Ci stai riprendendo Ci stai riprendendo Dai Però Madonna Una cosa che mi fa strarrabiare Giuro la connessione Mamma mia Ma che connessione c'è Puppamelo Là sopra Ce n'è uno Dove sei? Eccolo Madonna Quanto larga Madonna No uno sotto Opla Eri vai in serie Piazzamolo No Quanto sono furbi No Va bene Abbiamo Abbiamo pulce Ragazzi Abbiamo pulce Eccolo pulce Dove sei? Eccolo E' pulce Si In una versione canina Si è trasformato Madonna Ancora Mi hanno già ucciso il cane Quanto è forte Io so che voi siete là Invece Ora voi Dove siete? Quanto larga Veramente ragazzi Mi ha una cosa che mi fa strarrabiare Il lag di quello più lì Oppa Mio dio Dove siete? Dai Non ci posso credere Non ci posso credere Prima partita finita ragazzi Di due ragazzi Quindi sono anche abbastanza contento Che ho fatto un buon recupero 16-8 Ma ci andiamo a fare Anzi no Ne facciamo un'altra E magari nel prossimo video Tanto sto registrando Da Sette Minutes Aspetta un secondo Allora No scusa Eccomi tornato Allora Dato che stiamo registrando Da sette minuti Da sette minuti Si Però dovrò tagliare Qualche parte Magari Ne facciamo un'altra Su frenesia Proprio facile Facile Sulla mappa Allora Prison Break Mica la sette Overlord Mi fa No Ce n'è una che mi fa Straschifo Deve facciamo Prison Break Perché è la più votata Quindi la votiamo anche noi Qua bisogna buttare Giù l'albero Lol Non lo sapevate Ammettetelo No dai Dai Oh Ne cerchiamo un'altra Dai che abbiamo ancora tempo Tecnicamente parlando Ehm Facciamo Proviamo tutti con tutti Con lo Snacker Dai Allora Faremo Frenesia Come seconda partita No perché No ne ho fatte Ne ho cercate due Ma è una cosa Veramente tremenda Dalla gavala Alla grandissima E se Anche in questa Io vi saluterò Alla grande E vi dirò potente appara Però Speriamo di no Silenzio L'abbiamo trovata L'abbiamo trovata Dai Va bene Mappa di prima Che bello E vediamo se possiamo prendere qualcosa E bonus Vanno bene E basta Dai Mappa di prima Credo Che si chiama Fright Che pronuncia Va bene Dai Dai Speriamo di fare Non dico una bella partita Vero Un bel radio 2 Che poi devo andare Dai 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 Allora Scherzando select E i numeri Mi è sembrata Una partita abbastanza buona Dove non larga Però già mi fa salire un po' Il creminazzo Che si è ancora Tutto 3 persone Va bene Mi prudio il naso Magari non è neanche La mappa di prima Però a me sembra No si 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 Quella di prima Invece camminando Mi sembra che l'acchi Va bene dai Bella L'abbiamo ucciso Ne uccidiamo Ci uccidiamo Un altro Là c'è un altro Ancora Ah Chiamano le loro cose Va bene Esatto Dai 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 Dove siete Urco Giuda Madonna E' vero che finisì Mi ero scordato Ho 6 secondi L'ha L'ha visto L'ha ucciso Va bene Va bene Mi ero scordato Che fosse fremesia Quindi ero là Su Aspettavo Va bene dai Non dovrebbe Non sta partendo malissimo Madonna Ma perché parlo Ma porca miseria Eravamo andati bene Eravamo 6-1 Mi sembra Madonna Uno lì Dai So che vieni Lo so che tu mi vuoi venire C'è si mi ammazzava Si mi ammazzava Madonna Scappa 26 secondi 26 secondi Dai tira sto coso Va bene 8-4 Ma non so se veramente Stavo dicendo Non so se è l'orario Ma La donna si mi larga Porca miseria Porca miseria Pugge Non fare Le cose Dai 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 Questa mattina È bella che è andata Speravo che andasse Andasse un po' meglio Ancora L'itmarker Ma porco Giuda Ma sarà possibile Ci diamo un nemico Con l'arma secondaria Madonna Madonna Era un nemico E ce n'era un altro La dietro Ma io non lo zappevo Ripartengi Mi ha fottuto Perciò di merda Perciò di merda È andata bene Non è possibile So che sei E qui Popà Dio santo Bravo No 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 Ma dormi Qui Mi sciottano Dai Frenzia Spara i miei amici Non spara i miei amici Io vi sto Ma dai È finita la partita Sti cazzi È andata male ragazzi Però io non ho più tempo Devo filosofare Quindi Allora 15 uccisioni 11 morti Abbastanza cacare Però Dettagli Quindi ragazzi Vi saluto Vi saluto E vi dico potente A fare insieme Nel prossimo video Bolla A fare insieme A fare insieme A fare insieme A fare insieme